Sindaco, 5 anni che si festeggia la settimana europea dello sport, il primo anno per Silvi. C'è una certa emozione, tante associazioni che hanno aderito a questa manifestazione molto importante. Noi crediamo molto nello sport, la città di Silvi sicuramente con i suoi impianti potrà sicuramente dare questo surplus sul territorio. Noi contiamo molto sullo sport perché comunque abbiamo una valenza turistica o sportiva che ci caratterizza. Questi saranno tre giorni per quest'anno sicuramente da implementare il prossimo anno. Avremo sicuramente quella voglia e quella forza di farci conoscere come una realtà nuova, una realtà diversa e finalizzata soprattutto sul terzo settore che è un settore in crescita, in fase di sviluppo e dunque vogliamo essere i promotori proprio nel territorio di questa bellissima nuova iniziativa. Vi aspettiamo a Silvi, soprattutto il 27 con un convegno di qualità, successivamente per due giorni di sport in piazza e nelle strutture ospitanti sul nostro territorio. Settimana europea dello sport qui a Silvi, organizzazione affidata all'Atletica Vomano, Gabriele Di Giuseppe. Tre giorni importanti, cinque anni che si festeggia in Europa ma è il primo anno qui a Silvi. Sì, io direi anche il primo anno per l'Abruzzo, di conseguenza questo è veramente entusiasmante sia per l'Atletica Vomano sia per tutto il nostro staff ma in particolare anche per l'amministrazione comunale che veramente sta credendo in questo evento. Questo sarà un punto di partenza e non sarà sicuramente un punto di arrivo perché noi abbiamo degli obiettivi abbastanza ambiziosi perché questo progetto negli anni dovrà essere anche riconosciuto a livello europeo e quello è il nostro principale traguardo. Da sottolineare l'importanza dello sport per tutti che partirà proprio questo messaggio qui da Silvi. Sì, questo è fondamentale perché noi siamo per lo sport per tutti ma in particolare anche per i diversamente abili. in particolare abbiamo anche delle associazioni che faranno parte di questo evento e verranno a fare delle dimostrazioni proprio ai ragazzi che sono diversamente abili ma nello stesso tempo sono superabili.